Al Dio creatore dobbiamo tutto, ma proprio tutto. Non gli abbiamo chiesto di darci l'esistenza, ma se ce l'ha donata è senz'altro una cosa grande, inimmaginabile per la nostra stessa ragione. Noi tendiamo spesso a mettere in evidenza il dolore ed il male che subiamo ed operiamo. Non sempre riconosciamo sinceramente il dono immenso dell'esistenza. Prima di nascere non eravamo. Non potevamo sapere nulla dell'essere e dell'esistenza. Ora invece osserviamo, comunichiamo, ascoltiamo, operiamo, sviluppiamo la consapevolezza, eccetera. Ma la cosa più importante della nostra vita terrena è la nostra vocazione. Dobbiamo evolverci superando prove e sofferenze perché siamo chiamati ad un livello di esistenza qualitativamente migliore. Diventare veri figli di Dio per l'eternità all'interno del dinamismo trinitario. Non sappiamo cosa realmente ci aspetta, ma in Gesù Cristo sappiamo che risorgeremo ad una vita nuova e molto più consapevole. Vedremo Dio faccia a faccia e con Lui e con tutti i santi e gli angeli gioiremo perché non ci sarà più la morte e la sofferenza, ma una indescrivibile beatitudine, se crediamo.